ciao a tutti ragazzi bentornati in questo nuovo video qui è il ghost cobra yogi e volevamo proporvi l'ultima giocata effettuata dalla fox in aiutatemi dove l'abbiamo fatta? Arena Sicubi a Vanzaghello esatto in Arena Sicubi a Vanzaghello è una giocata è un campo sicubi puro diciamo che è un sicubi puro molto ravvicinato ingaggi molto 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 veloce niente vi lasciamo al video buon proseguimento ita beh qui vediamo un giocchi che parte flash qua lo voglio di correre ragazzi il dottore mi ha detto che volevo dimagrire sennò non vi c'erano il palermo bello che avanza senza copertura tranquillo poi muore e non mi davano la copertura guarda dopo quanto è arrivato guarda dopo quanto è arrivato guarda dopo quanto è arrivato mi sa che era a farsi su una sigaretta e poi è partito guardalo guardalo qua già sapevo che era lì infatti stavo già sparando lì cioè io ero qua dietro infatti mi si vede in lontananza uscire è corso io stavo sparando io dritto per dritto gli oghi da qua è riuscito a prendermi e poi ha detto ah si mi ha preso un pallino preso tipo i noreggianti di sabato entra nelle stanze con gli spari quando ti han preso anche allora sono stati presi qua devo ammetterlo ho fatto una cagata gli ho detto di coprire a sinistra però se ce n'era uno lì ma vai se ce n'era tu hai fatto bene qua fa fuori quello ma se ce n'era uno la dietro si 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 però bello però è l'azione bell'azione che perché sennò non ci muovavamo dovevamo stucce di merda però però è un bell'azione sceglie di merda dopo lo vedrete come spara in singolo no no lo sappiamo che è bello ma anche io dico che l'estetica fa proprio cagare posizione di jack qua posizione di jack guardala eh guardala un power ranger un power ranger intanto e tre ragazze e tre ragazzi che salutiamo così tanto coraggiosi ciao ragazzi ciao ragazzi abbiamo trovato noleggianti da quanto nato ci sono anche divertite quindi ci mancherebbero non si divertono con noi cazzo tutto ci ritiriamo troppo adesso in effetti in effetti parte fatto che erano sempre in fila indiana dietro di noi insomma noi non siamo bravi noi siamo dei coglioni diversi appunto vai vabbè qua dopo è diventato buio e infatti è finita la partita infatti si cambia game quello che ho caschetto con su quello che non va prima di mettere la divisa nera questo qua è il nostro taro si distingue perchè è l'unico con la faccia d'agosto con la maschera d'agosto con capuccio l'unico è lui tu sempre con sto cazzo di coltello in mano te lo leggerò il vizio che lo puoi avere qua non stava fermo tempo di vederse la copriera partita e intanto è vero guarda lo corre avanti guarda solo dritto potevano già essere usciti no no guardavo anche di lì si in effetti puttava un paio indio io guardavo lo sapevo già che arrivare lì anche qua e ora che si mette il puttamento in un puttaccio giù anche qua sei andato subito a portare la porta se ce ne eravamo dietro la parazzetta poi sto gesto qua bellissimo così li fa agli altri così esatto non vuol dire così di dire ce l'ho dritto cioè non fraintendete ce l'ho dritto io l'ho fatto così perchè era in su ma lui no perchè a ritrovare a sinistra perchè c'ha tutto tutto e dimmi come fai ad andare su intanto io ne vieni dalla scala ho capito ma se ce n'è uno lì che ci becca se va a pulire e saliamo dalle scale di là si si raga troppo bordello mh nervoso adesso qua guardiamo attentamente la canna del fucile dietro a mezzo metro bellissima guarda tagliato coltellato è andata guarda guarda ha coltellato si è gasato perchè ha fatto una kill aspetta guarda tagliato guarda tagliato ma come spari davvero io in una posizione ti salterai addosso perchè guarda aspetta guardati te invece di guardare tagliato opla hai fatto una kill coltello ti sei gasato vai avanti senza non ho capito da dove mi hanno preso e sono morto lo so lo so una volta che fai una kill col coltello ti gasi e vai avanti a minchia eh ragazzi devo ancora imparare infatti kill col coltello e in questa ripresa vediamo benissimo come cosa succede? faccio le kill a lui quando giochiamo in aria che faccio il kill vedi lui che in una frazione in secondo fa così nella frazione in secondo in cui mette fuori la testa lo prende in fronte sistematicamente quante volte quante volte quante volte quante volte sono riuscito da un angolo e mi ha preso così così io sto sparando a micchia tra l'altro su un'area o come dove l'altro giorno in aria lui dietro il muretto lo spara uno e fa preso io intanto non so la granata preso preso cazzo questo questa è stata la giocata preso a tre spalle mica è stata la giocata della mia vita questa allora con dietro lui io mi facevo dare retroguardia io lui e basta se no senza di me era spacciato no era spacciato senza di te no dovevi coprirgli il culo allora già vedevo c'era un movimento davanti giusto infatti ce n'era uno che bello che io fare dicevo e te te lo devi levare sto cazzo di vizio di andare per forza a prenderli col coltello se si giravano ti facevano fuori e tu non ne facevi neanche uno se sei va bene che non si sono girati ho capito ma se sei a venti centimetri lui fai il coltello io sono leggero sopravoce anche qua guarda lo potevi già prendere ascolta non dimmi che non l'hai visto perché l'hai anche mirato l'ho mirato ma io lo andavo dall'altra parte è stato mirato vabbè l'ho ucciso punto poi come cazzo avete fatto a mancarvi a quella distanza quello te lo giuro quando siamo usciti ho detto ma sei sicuro che sparava il fucile ha provato ma si sparava poi te lo giuro non ci credo qua beh ovviamente i miei che mi sparavano ma già lo sapevo quindi ho fatto lì la spalla sopra l'aria quella è stata epica mamma mia chi qua ha anche sparato a parlare dell'euforia ecco dove avevo parcheggiato ma perché hai parcheggiato anche la situazione momento time vabbè avevo ragione io non stai perché te l'abbiamo detto io ti inculo a sangue te l'ho detto se hai tolto io ti ammazzo guarda adesso si incazza zitti si incazza aspetta 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 lui si sarà anche incazzato aspetta 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 un attimo ascolta si si l'hai già detto l'hai già detto qua dovevo capire bene cosa dice impaninamento evidente si è vero sembra che dice ragazzi dell'ikea sembra che dice ragazzi dell'ikea invece di ragazzi dell'ikea amo ricarichiamo ragazzi ricarichiamo ragazzi ricarichiamo ragazzi ricarichiamo guarda ma si qua partenza cannone partenza cannone io ti giuro ti ho visto con la faccia contro il pilastro e apparenza in grado molto e c'è quello lì un particolo lì l'etava più di tanto lo vedete per il passamontagna a metà per il passamontagna intero una volta non ce l'ha una volta in grado una volta in grado una volta in grado si quello che c'è c'è una volta lo vedi tanto qua oh era 10 minuti che eravamo lì che non avanzavano e adesso sentite il singolo del mio merda di fucile vai regia esteticamente è la merda è spaventoso ma ma voi estetica non me ne fai guarda che spara e ammazza il mio vecchio fucile faccio qualche culo io ho capito eh non pensare di tappa eravamo quasi il mio vecchio modalità pistola bellissima io ricordo che il mio vecchio fucile e ti caccio sto fucile ragazzi qua ragazzi c'era dietro sta baricata c'era uno di un quarto d'ora devo dire lanciate sta cavolo di granata vedamelo qua mi hanno preso perchè stavo ancora andando la granata dopo un quarto d'ora eh capito da mezz'ora mangi sta granata qua quando facciamo un pochino più mongoloidi ognuno ha le proprie masche io ho qua di predator perchè è il mio idolo ragazzi predator e predator ognuno che suoi ha io pupisco altro mi piace pupisco predator ah no predator si è finitato i desti e poi quella maschera si è finitato i desti e poi quella maschera si è finitato i desti io mi avevo una figa così fa io ho chiuso ne in testa mi fa male guai ci hai messo venti minuti per capire cosa dovevo fare io l'avevo capito ma guarda dove ti sei infilato guarda dove sei infilato è vero e qua vogliamo capire ragazzi anche secondo voi voglio sapere anche secondo voi se è possibile se vogliamo facciamo anche un filmino con degli obiettivi per vedere la mia arma quanto è precisa guardate eh inizioci a sparare isci e non lo becco a parte che si è buttato lì sotto potrebbe essere preso da tutti i lati no 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 prendevano guardano anche questo eh hai visto la gamba che stiva da dentro? niente vabbè allora cosa succederà mai riesci fuori ci rispariamo io ho preso con un colpo qua che bello che vedi lui che è spazio e non si dica si si adesso sono passati a monofilare lo ammetto adesso adesso questi sono i fail questi sono i fail qua vuole la manifestazione mi sono caricato questa è stata la più epica è vero qua è stato bello non mi sono accorto e lui come ho fatto non ho accorto sono andato giù il pedale ha indicato e ha tirato giù il vetrino adesso è qua all'angolino io vi giuro vi giuro su dio non l'ho vista non cazzo in quel momento se si potesse sentire se non avrete capito adesso vi faremo un zoom ecco stavo sparando e l'ho visto la buca non è caduto per terra però ha fatto ho fatto tra l'altro cadendo continuando a sparare l'ho preso però se si poteva sentire l'altro mi dicevi che facevo tum 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 porco ti ho preso ti ho preso comunque bene ragazzi concludiamo qua bene ragazzi il video si conclude qua noi speriamo che vi sia piaciuto vi abbiamo fatto divertire una cosa che appunto ci hanno già richiesto per un video che avevamo fatto di continuare a mettere il backstage è vero dopo l'ultimo video che abbiamo fatto con il backstage c'era arrivata una richiesta perchè non c'è arrivata questo è uno di quelli questo è uno di quelli questo è uno di quelli io soprattutto lo faccio per te che me l'hai chiesto te e gli altri due amici però mi sembrava ben interessati ma lo faccio per te ho chiamato anche altri due vedi una volta eravamo uno e due ma da questa richiesta ho chiamato anche la parola a lei signor allora ragazzi se vi sono piaciuti i nostri video e tutto se volete partecipare ai nostri eventi lasciate il vostro link di facebook qui sotto nei commenti per i nostri commenti vi risponderemo vi contatteremo per organizzarci contatteremo e faremo sapere tutto vai con backstage c'era un backstage c'era un backstage c'era un backstage per me sono un pochino esagerato è un pochino però che forse che il mio cane già arriva a scorreggiare fino a qua te stai fermo no no perchè porti il cane? no no perchè se per caso scorreggia steli insieme fanno una bomba atomica ma mandati la steli lascia qua il cane vai di la lascia qua il cane lascia qua il cane sacrificio per te lascia qua il cane mandati la steli tu stai scorreggiato il no fu sul tuo cane mi sti cazze mi sto ai fortunato ai fortunati a posto mancarò il peggiorno allora iniziamo tranquilli quando arriva allora ciao ragazzi bentornati in questo nuovo vi ehi 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 vieni qua vieni qua con un cappino vieni qua con un cappino tai che ne ho poco ragazzi vieni il cuccio dai mancato il bicchiere dai vai apri dai devo tenerla dai è pesante spedemmole basta grazie vengo ho trovato i miei voto ai cinque anni mi ha dato 400 anni mi ha dato Napoleone in buona parte in persona cazzo che culo salute salute il mio compagno cobra avrebbe qualcosa da dirvi bene abbiamo detto tutto ci vediamo l'anno prossimo avete capito? ciao ragazzi ciao ragazzi come per dire all'inizio finché va alla fine